La plancia, compatta e lineare, garantisce ergonomia e comfort grazie alla strumentazione completa e funzionale. Sul nuovo volante sono presenti i tasti che consentono la selezione e la gestione delle funzioni del display, dell'autoradio e delle chiamate telefoniche. Il veicolo è dotato di luci diurne a LED. Azionando l'interruttore rotativo, vengono accese le luci esterne di posizione e gli anabaglianti. Agendo sul devio guida di sinistra, è possibile azionare le luci abbaglianti, gli indicatori di direzione, l'avvisatore acustico e il tergicristallo. Il devio guida di destra può incorporare i comandi del cruise control, del freno motore, la selezione delle marce del cambio automatizzato e automatico e la gestione del rallentatore. Al centro della plancia è presente il comando per l'attivazione delle luci di emergenza. Per la ricarica dei più comuni dispositivi elettronici, il veicolo è dotato di numerose prese USB posizionate alla base della telecamera del sistema LDVS e all'interno del modulo office. Il veicolo è dotato di nuovi e più ergonomici comandi per la regolazione di riscaldamento e climatizzazione.